tra tante cose che si inseriscono nei nostri sentimenti nella nostra visione del mondo spirituale cose che troviamo quando ci prepariamo a televisione tra questi diversi sentimenti ven'è soprattutto uno l'amore che univa l'anima ad altre anime e che veniva fatto transitare viene portato nel mondo della spiritualità colma di luce da coloro che attraversano la porta della morte i morti non dimenticano i vivi e fra i desideri che rivolgono alla valle dell'esistenza terrena vi sono soprattutto quelli che riguardano noi rimasti qui quelli che vanno verso l'amore che noi abbiamo accolto senza esprimerlo ma come una cara promessa alla loro anima e visto nel modo giusto il rapporto tra anima e anima ci dà questo sentimento questa convinzione è come una promessa data e non mantenuta se non siamo in grado di portare oltre il momento in cui dobbiamo separarci fisicamente quell'amore che qui avevamo per loro l'amore tra i vivi e defunti di Rudolf Steiner Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.